Che ne dice? Io credo che bisognerebbe avere un pochino più di, sconsentitemi, di serietà, insomma, perché è facile sparare sulla Croce Rossa quando tutti sparano sulla Croce Rossa. Si possono sicuramente rivedere i trattamenti, per esempio, io credo, io, beh, insomma, adesso la cosa su cui sputano tutti, persino persone come Maurizio Costanzo sono i parlamentari, peraltro anche con esattesse, perché i parlamentari non pagano la pensione ai portaborse, i portaborse se la pagano da soli, ma ci ho detto, è giusto comunque avere è giusto avere anche una documentazione più attenta, no? Tenga conto però che si rischia di spendere di più, perché se non si può dire quello che spendi io ti do, ci vogliono dei tetti, e questi tetti vanno definiti. Non so se Costanzo vuole replicare, poi vi porto a parlare dell'APE, prego Maurizio Costanzo. Sì, sì, replico a Cazzola, uno quando dice Perzino, Costanzo, Perzino, non so un passante, Cazzola, lei forse si è distratto. Ma infatti vuole sapere qual è la sua pensione, Costanzo, vuole sapere qual è la sua pensione, se ne faccia una ragione, vuole sapere qual è la sua pensione, Costanzo, da giornalista, stai a sentire, da giornalista, perché io faccio questo mestiere, non so lei, da quando avevo 17 anni, le basta? Ecco, evidentemente lei sa di raccordi stretti con il Parlamento, lo difenda, lo difenda, non me ne può fregare meno, ecco. Ma neanche a me può fregar meno. Aspettate, no, ci interessa a noi tutto quello che dite, vorremmo sapere ad esempio Cazzola.